Nello struttosto video avevo già introdotto che sarebbe stato un video diviso a metà in due fasi di un argomento un po' più grande, ovvero le potenzialità della regione scandinava, quindi Danimarca, Svezia e Norvegia, ma se vogliamo includiamoci anche la Finlandia, quindi allarghiamoci a nord Europa, per diventare una potenza economica in futuro, più di quanto non sia mai stata. Però appunto con il discorso di Mario Draghi avevo voluto un po' approfondire alcune delle occasioni terze, non tutte, però diciamo quelle secondo me un po' più rilevanti, che sono tutte quelle legate al tech, alle software house, perché comunque nel ambito digital la Scandinavia è molto avanti. In questa seconda parte invece andremo a vedere perché la regione scandinava diventerà sempre più importante in tanti aspetti, da quello strategico a quello politico a quello economico, e questo perché si trova in una posizione che con il riscaldamento globale sta aprendo tante nuove vie in tanti ambiti diversi che vanno dei trasporti alla logistica, all'energia e via dicendo, e quindi inevitabilmente si trova in una posizione di fortuna che in passato non ha mai avuto, essendo invece nel contesto europeo stata più marginale per ovvi motivi e non solo. Quindi in questo video andremo a vedere cosa sta succedendo, entreremo nel più grande contesto dell'evoluzione artica, quindi vi introdurrò anche al Consiglio Artico, quali sono le attuali, qual è l'attuale istituzione economica e politica della Scandinavia e dei paesi scandinavi, che sono molto diversi tra di loro in tutti gli aspetti che vi ho detto, e che cosa possono diventare. Questo ovviamente è un po' un purparlè, una grande chiacchiera da fiordo, un monologo da fiordo, a cui però vi invito a partecipare commentando come sempre, perché appunto ultimamente ce le stiamo raccontando un pochino. Vedete che oggi c'è uno sfondo diverso rispetto al solito per chi non è abbezzo a TikTok, ma in realtà se guardate gli shorts dovreste riconoscerlo, questo perché diciamo volevo un po' cambiare, e secondo me è uno sfondo molto carino, ci poteva stare anche per i video, diciamo wide, per i video di YouTube, comunque su TikTok vi invito sempre a seguirmi, perché ci sono delle cose che non riesco dire neanche negli shorts, perché gli shorts hanno un limite di un minuto, mentre su TikTok posso parlare a vanvera come faccio nei video di YouTube tradizionali. Avete già capito che è iniziato il mio momento Giorgio Mastrota, prima di andare nel profondo a vedere qual è la situazione della Scandinavia, vi invito a iscrivervi al mio canale YouTube se non l'avete ancora fatto, e ad attivare la campanellina commentando i video, perché così l'algoritmo è contento e i miei video non lo vedi da più persone. A poi a me piace sempre sapere quando lo scrivete nei modi dovuti, qual è la vostra opinione a riguardo, cosa ne pensate, eccetera, cioè ci siamo fatti delle vere chiacchierate, insieme sono molto contento. Potete appunto scrivermi sui vari social, potete leggere i miei articoli o sul mio blog o su quello dell'Istituto Culturale Nordico, articoli che escono settimanalmente al momento in cui registro questo video, vi dico, non lo so che cosa deve uscire, sono troppo in anticipo, però abbiamo parlato di religione, abbiamo parlato di diritti LGBT, abbiamo parlato un po' diversi anche di queste cose. Ci sono anche modi invece più, diciamo, a pagamento per sostenermi economicamente, il primo è iscrivervi all'abbonamento con lì, costa 4,99€ al mese, avete contenuti in anteprima, contenuti esclusivi come il PC su Copenaghenia, avete il codice del 10% personalizzato per un corso a scelta dell'Istituto Culturale Nordico. Codici che potete avere anche se mi fate una donazione con BuyMe a Coffee, potete scegliere voi l'importo a donare, mi aiuterebbe tantissimo. Potete fare anche una donazione direttamente tramite YouTube, qui però non c'è il codice personalizzato, non perché io odi chi mi sostiene da YouTube, ma per il semplice fatto che da YouTube non so bene chi siate e quindi non posso, diciamo, farmi un codice. Come sempre ultimamente non ho il mio quadernino della Volkswagen, ma ho il tablet, il pad 2 che mi ha mandato OnePlus, insieme a diversi altri prodotti, con una collaborazione che sta continuando, quindi sono molto contento. Tra l'altro anche il video sta venendo registrato da OnePlus 12, questo tablet ve lo consiglio, insomma, è una surprise, cioè loro non mi hanno pagato, mi hanno mandato i prodotti, ma sono prodotti validi perché nel panorama telefonico sono quelli più veloci, sia in generale come potenza hardware, sia anche a ricaricarsi. Hanno veramente dei tempi di ricarica velocissimi e mi lasciano sbalordito. Ogni volta ho trovato che la loro batteria dura tantissimo. Questo è, direi che col momento di Giorgio Mastrota ce l'abbiamo fatto, direi che possiamo cominciare. Allora, partiamo ad analizzare come sono messi i paesi scandinavi oggi, perché ovviamente ad analizzare la situazione odierna, soprattutto per quanto riguarda la Svezia, non viene da pensare che possano essere delle potenze economiche in futuro. In generale non hanno la popolazione per avere i PIL elevati che hanno i grandi paesi del mondo, come possono essere quelli del G7 o comunque quelli con il PIL più alto al mondo, ma analizzando anche la situazione della Svezia, che è stato uno degli unici tre paesi recessione negli ultimi anni, insieme alla Germania e al Regno Unito, insomma la Svezia attualmente non bersa nelle condizioni economiche migliori del XXI secolo. Ha avuto momenti migliori, questo assolutamente. Tra l'altro con la corona svedese, che ogni tanto sale, ogni tanto scende, però comunque diciamo che guarda l'animal che un po' si scherza, perché la Svezia è diventata un po' il posto economico dove... perché rispetto all'euro e alla corona danese vale molto di meno e quindi comunque effettivamente quando vai a Malmo, che già di per sé è più economica di Copenhagen, a prescindere dal valore della corona svedese, te ne accorgi un pochino di più. Ma anche la corona norvegese sta colando a picco di nuovo e c'è stato un articolo credo la settimana scorsa che diceva che la corona norvegese è tornata a crollare e ne abbiamo parlato anche nel podcast quando abbiamo parlato un po' di vacanze perché appunto quest'anno, più che in altri anni, gli scandinavi e soprattutto i norvegesi e gli svedesi sarebbero rimasti più al nord, diciamo, in casa, al massimo sarebbero andati in Svezia, dalla Norvegia e viceversa. Sia per un fattore climatico, cioè per la stessa coolcation che sta condizionando anche per il resto d'Europa, quindi la tendenza a fare vacanze al nord d'estate perché giù, cioè al sud, fa troppo caldo, ma anche per una questione puramente economica. La Danimarca in questo ha un'inflazione effettivamente importante che, diciamo, lo Stato cerca un po' di alleviare anche le varie catene per cui i prezzi si sono alzati ma non in modo così evidente come in altri contesti, come in altri paesi, però la Danimarca non subisce questa svalutazione per il suo rapporto che ho con l'euro. La Danimarca non ha l'euro, ma io dico sempre come se ce l'avesse. L'unica cosa per cui te ne accorgi è che se paghi con una carta italiana in Animarca in prezzi corona e ci devi pagare una commissione, ma la paghi, prende la questione che è la banca, poi vi deve fare il cambio, no? Quindi c'è qualcuno che deve lavorare per voi, le commissioni sono queste. Ma di fatto se l'euro sale, la corona sale, se l'euro scende, la corona scende. E il cambio è praticamente fisso a 1 euro e 7,45-46 corona, cioè oscilla veramente di poco rispetto alle altre due. Quindi diciamo che al momento la Scandinavia, soprattutto la Svezia, risente un po' del contesto generale europeo. Sono però due eccezioni, nel senso che abbiamo visto che in Danimarca c'è l'inflazione, in Noveggia c'è l'inflazione più, cioè il crollo della corona, ma rispetto alla Svezia sono messe molto meglio. La Danimarca in generale continua a crescere come economia, nel 2023 è cresciuta molto, nella prima parte del 2024 pure. Probabilmente il 2024 vedrà una crescita meno evidente rispetto a quella del 2023, ma di poco. Però in generale è sempre sopravvissuta, o quasi sempre sopravvissuta bene ai contesti internazionali. Anche la crisi del 2008, diciamo, l'aveva colpita meno rispetto ai grandi paesi europei. E soprattutto la Danimarca, come la crisi attuale è dovuta a problemi che ci sono, diciamo, di dipendenza da alcuni paesi che hanno invasato altri paesi, oppure da una guerra commerciale tra gli Stati Uniti e la Cina, oppure dal contesto medio orientale. Ecco, diciamo che la Danimarca, se deve aver subito qualcosa, ha subito il contesto medio orientale, meno la crisi russa, perché a differenza dell'Italia o della Germania, non era dipendente dal gas russo. La Danimarca produce la sua energia da sola. Esattamente come la Norvegia, che non solo non risente di questo contesto negativamente, ma addirittura ne ha approfittato per arricchirsi un pochino di più, perché appunto la Norvegia è o è diventata o sta diventando il nuovo principale partner energetico della Germania in fuga dalla Russia e in totale disastro economico da questo suo basarsi sempre, per quanto riguarda l'energia, sugli altri. Quindi il contesto generale è un po' questo, di crescita magari rallentata in Svezia, ma comunque la Svezia ha dalla sua diverse risorse e diciamo la Svezia al momento ha un caso un po' a segno, ne abbiamo già parlato, ci sono un po' di problemi sociali. Non diciamo da rendere la Svezia il Guatemala, come l'ha cercato di farmi notare, ma no, non è quello il problema della Svezia, però diciamo che rispetto agli altri due è messo un pochino peggio. Però, 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 tutte e tre hanno le potenzialità e tra l'altro paradossalmente più o meno ognuno in un modo diverso di cogliere al balzo quelle che sono le necessità dell'economia globale post-industriale che ci si sta prospettando già adesso, ma soprattutto in futuro. Visto che abbiamo già citato il report di Mario Draghi, diciamo che l'Europa che si vuole creare è un'Europa ovviamente che punti su un'autoproduzione di qualsiasi cosa, compresa l'energia, e che punti tantissimo al rinnovabile. Ora, oggi la produzione di strumenti per avere l'energia rinnovabile come i pannelli solari o le pale eoliche, soprattutto i pannelli solari, sono un'altra delle cose che sono appannaggio della Cina. Ma, se vi ricordate i video che avevo fatto sullo Youthland, voi avete visto che c'è Vestas nello Youthland. E Vestas è uno dei principali produttori mondiali di pale eoliche. E infatti, proprio questa, questa, diciamo, identità di nuova Europa autoproduttrice di energie, di energie rinnovabili, si dividerà tra nord e sud con il sud legato all'energia solare, in questo la Spagna farà da guida, ma anche l'Italia, e invece il nord legato all'energia eolica per motivi puramente naturali. A sud Europa c'è tanto sole e a nord Europa c'è tanto vento. Per cui, ovviamente, i paesi scandinavi ne hanno già approfittato ampiamente, soprattutto la Danimarca. La Danimarca produce sempre tantissima energia dalle eoli e addirittura in alcuni casi ne produce talmente tanti da venderne alla Svezia o alla Germania stessa. In questo la Danimarca è partita molto molto in anticipo, addirittura già verso gli anni 80, 90, ed è tuttora, penso, il primo paese, o il secondo, dopo gli Stati Uniti, per produzione di energia, di energia eolica. E quindi, diciamo, questo avvicinarsi, questo necessario incremento dell'energia eolica, o comunque di paesi che adotteranno le pareoliche, farà sì che Vestas potenzialmente, e dico potenzialmente, questo è quello che io mi immagino, possa diventare un player ancora più importante. Poi Vestas comunque non è l'unico, però comunque è quello più rosso. La Danimarca in generale, nel settore dell'energia, è piuttosto efficiente, per cui in un mondo dove l'energia conterà sempre di più, soprattutto quella elettrica, perché andiamo in un mondo di dispositivi elettronici e digitali, la Danimarca ha già questo vantaggio. Non è il solo, ma ho voluto mettere tra le potenzialità più alte della Danimarca quella dell'energia. La Svezia e la Norvegia hanno anche loro dei punti a favore molto forti, ripeto, nonostante le varie difficoltà che stanno riscontrando in questo momento. Avevo accennato nel video quello sull'aumento della criminalità, il fatto che molti migranti servivano alla Svezia e servono alla Svezia per essere spediti al nord della Svezia del paese e che il nord del paese ha dei forti conflitti con la popolazione Sami. Non più per i motivi passati, cioè quantomeno non esplicitamente, quindi non sono più motivi di superiorità della popolazione germanica su quella Sami, ma perché al nord della Svezia ci sono tantissime miniere di minerali, minerali che servono alla produzione principalmente di batterie, ma non solo. E, diciamo, la Svezia, forse ve lo ricordate qualche anno fa ormai, sì, qualche anno fa era salita un po' la ribalta perché ha spostato, sta spostando un'intera città, Kiruna, per far spazio alle nuove miniere per l'estrazione proprio di questi minerali che serviranno alla produzione di batterie per le autoelettriche, batterie per dispositivi elettronici. Sempre da quelle parti c'è Northvolt e Northvolt è uno, si appressa anzi ad essere uno dei principali produttori di batterie per autoelettriche in Europa in assoluto. Ma, poi, diciamo, il suo obiettivo molto ambizioso per ora, perché non ne ha le risorse, però molto ambizioso è quello di competere con CATL, CATL. CATL, per chi non lo conoscesse, è il principale produttore di batterie per autoelettriche al mondo ed è cinese. Produce tantissime batterie per tantissimi produttori, tra cui Volvo, per rimanere in Svezia, Volvo e compagnia, ma lo fa anche, per esempio, per Volkswagen, Audi, eccetera, eccetera, per cui, diciamo, ha un po' una sorta di monopolio. Le ambizioni di CATL sono molto, molto grandi, perché CATL addirittura ha fatto una partnership con Foxconn, che per chi non lo sapesse, Foxconn è quella che produce questi dispositivi qui, cioè gli iPhone. La Foxconn di recente a sua volta ha voluto entrare nel settore delle autoelettriche proprio con CATL, quindi anche loro hanno un piano, eccetera, eccetera. Northvolt vuole, diciamo, fare concorrenza nei suoi obiettivi e nell'ottica di un'Europa che vuole rendersi più indipendente dalla fornitura di risorse proprio dalla Cina. In questo rientra in una fase di prima importanza e al momento, proprio grazie alle risorse che solo la Svezia ha al momento in termini di materiali per le autoelettriche gioca un ruolo importante. Il fondatore di Northvolt non si è limitato solo a Northvolt e Northvolt al momento è l'unica che più o meno funziona. Ha fatto accordi con Volvo Trucks, aveva fatto accordi anche con Volvo, con le aziende svedesi, per una collaborazione nella produzione di veicoli elettrici, ma lo stesso fondatore aveva creato British Volt per creare, diciamo, creare una Gigafactory e quindi una fabbrica di batterie per autoelettriche in Regno Unito, fallita, e poi aveva piani per Italvolt, quindi le tre, diciamo, regioni dovevano essere Svezia, Regno Unito e Nord Italia. Questo perché è stato scoperto che in zona Piemonte c'è una miniera abbastanza cospicua di minerali, credo che fosse litio o cobalto, non mi ricordo più, proprio legato alla produzione di batterie, insomma, per le estrazioni di minerali che servono qua a produzione di batterie. All'un momento è rimasto solo Northvolt, è quella che comunque, diciamo, ha più possibilità di operare e appunto da qui le miniere del nord della Svezia li servono anche per questo. Northvolt non è l'unica che le vuole sfruttare, il governo svedese poi le vuole sfruttare per tanti altri motivi, però, diciamo, io ho voluto mettervi questo esempio di azienda di produzione di batterie perché comunque all'era delle autoelettriche le batterie alimenteranno qualsiasi cosa che noi useremo, già lo fanno oggi, figuratevi, in futuro. Quindi la Svezia ha questo e sempre parlando di energie e batterie c'è poi il ruolo della Norvegia che non solo si è diventato un paese molto ricco con i suoi piacimenti di petrolio ma per rimanere in tema e qui capite perché ho voluto focalizzarmi sull'attenzione dei veicoli elettrici consapevole che la direzione quantomeno di alcune aree del mondo è di andare su veicoli elettrificati non solo elettrici quindi elettrificati sa bene che il petrolio non basterà più. I piani della Norvegia a lunghissimo termine c'è anche quello di rendersi sempre più indipendente dalla vendita di petrolio al momento la Norvegia non usa tanto cioè il petrolio che estrae lo estrae non lo estrae per se stessa vi potete chiamarla ipocrisia poi se volete farò un video a parte su questo discorso della Norvegia però comunque con la direzione che va da questo ovviamente ha dovuto trovare un altro petrolio e ha attuato un piano altrettanto opinabile un piano enorme di diciamo miniere sottomarine è un articolo che trovate sul blog ve lo lascio qui sotto che è stato approvato non mi ricordo più se a inizio 2024 o fine del 2023 io purtroppo con i tempi sono abbastanza problematico no forse era inizio 2024 il Parlamento norvegese ha approvato un enorme piano di miniere sottomarine e di esplorazione dei fondali sottomarini per le estrazioni di minerali anche in questo caso per la produzione di batterie per dispositivi elettronici o per auto elettriche stiamo parlando di un'area del mar di Norvegia e del mare del nord che è più grande di tutto il loro unionito messo insieme e questo ovviamente ha creato non poche polemiche perché ovviamente l'attività di diciamo esplorazione e di estrazione di minerali dei fondali sottomarini mi lascia immaginare che conseguenze piacevoli possa avere per l'ambiente sottomarino stesso e quindi la Norvegia diciamo è stata accusata di nuovo di greenwashing non solo perché estrae tuttora e vende petrolio ma perché nella sua volontà di essere green comunque non si fa scrupoli a diciamo a vaneggiare l'ambiente per i suoi obiettivi perché comunque la Norvegia ha uno svantaggio rispetto alla Svezia e la Danimarca la Norvegia non ha un'economia industriale la Norvegia è un'economia che si basa fondamentalmente sul petrolio sul turismo e in futuro si vuole basare anche su questo nuovo petrolio chiamiamolo così l'ho detto appunto semplicemente qualcuno verrà di Nama ci sono anche altre aziende però le più grosse aziende non vedete sono tutte nell'ambito energetico e soprattutto petrolifero quindi nella mia analisi so che qualcuno dirà ma ci sono anche altri punti da prendere in considerazione nella mia analisi io ho guardato questo il fattore energetico e il fattore diciamo digitale ed elettronico perché è quello che guiderà il mondo almeno per i prossimi 50 anni e andrà in tutto in quella direzione soprattutto nell'elettrificazione non solo delle automobili e questo vuol dire anche ma adesso è vero c'è un calo della domanda dei veicoli elettrici per cui magari la domanda di batterie non sarà così alta vi dico già che non è vero perché comunque il calo della domanda dei veicoli elettrici c'è per alcuni paesi in particolare per la Germania ma c'è una forte domanda di quelli ibridi e quelli ibridi hanno comunque bisogno di batterie per cui comunque quella è la direzione quella è stata presa possiamo essere d'accordo possiamo non essere d'accordo però quella è stata voluta intraprendere diciamo che in un mondo che va a quella direzione al momento i paesi scandinavi sono gli unici o comunque quelli più avanti da questo punto di vista nel caso delle rinnovabili come la Danimarca perché hanno investito molto prima in queste tecnologie e nel caso invece della Svezia e della Norvegia per motivi proprio geologici cioè sono loro ad avere quelle risorse un po' come quando è arrivata la prima rivoluzione industriale che l'Era Unita aveva tanto carbone diciamo che poi i paesi sfruttano un po' quello che hanno e se la domanda è di determinati tipi di minerali e loro li hanno ovviamente faranno di tutto per sfruttarli con le conseguenze del caso ma c'è poi un altro fattore ed è l'Artico abbiamo anche questo già accennato più volte e anche in questo se volete vi farò un video a parte dell'importanza crescente che sta avendo l'Artico per tanti motivi voi sapete bene che e ve l'ho già detto se avete visto altri miei video che il cambiamento climatico sta avendo conseguenze nefaste in tutto il mondo compresa la Scandinavia ma sta avendo conseguenze anche positive per gli scandinavi stessi e diciamo la conseguenza un po' più positiva se vogliamo e diciamo un po' più leggera è che si sono messe a produrre vino perché hanno visto che con il riscaldamento delle temperature hanno iniziato a poter coltivare alcuni tipi d'uva che prima non potevano coltivare diciamo video a parte non mi dilungherò più di questo ma diciamo che con un polo artico un polo nord un contesto artico dove i ghiacci sono ritirati fino al 40% si sono aperte immense nuove possibilità economiche che tutti i paesi diciamo principali stanno cercando di sfruttare e qui rientrano di nuovo la Cina e gli Stati Uniti se voi avete visto la quarta stagione di Borgen su Netflix questa questione è stata spiegata molto bene perché la Cina ha tantissimi interessi nell'artico ma se avete ascoltato anche l'ultimo episodio del podcast o il penultimo quello dove parliamo delle svalbard del governo norvegioso che impedisce alla Cina di appropriarsi dell'ultimo privato rimasto libero sulle isole svalbard sapete che la Cina ha tantissimi interessi nell'artico per diversi motivi il primo è che lo sciogliersi dei ghiacci sta aprendo nuove vie dei trasporti e quindi avere dei porti sull'artico è diventato praticamente sta diventando un must have e quindi ci sono paesi direttamente affacciati sull'artico o indirettamente affacciati sull'artico come la Danimarca oppure con interesse nell'artico con la Germania che stanno un po' cercando di mettere che vogliono mettere un po' le loro grimpi la Russia ce li ha già i porti in questo diciamo Murmansk è il porto artico più grande al momento che esiste ma ci sono anche nella parte diciamo siberiana della Russia artica così come ovviamente il Canada e gli Stati Uniti in Alaska la Svezia e la Norvegia nelle loro rispettive posizioni sull'artico la Norvegia ha più avvantaggio della Svezia perché la Norvegia copre tutto il resto della penisola della Fennoscandia con i suoi confini e ovviamente alle Svalbard e la Danimarca ovviamente ci fa capire perché è così tanto interessata la Gorellandia perché la Gorellandia è proprio parte dell'artico e quindi si sta rivelando per la Danimarca sempre più importante i patti tra la Danimarca e la Gorellandia sono che in realtà la Danimarca sta aiutando a diventare indipendente e autosufficiente a livello economico la Gorellandia nella realtà dei patti vi dico secondo me faranno di tutto per cambiarle questi patti proprio per la crescente importanza che l'artico ha e un po' perché comunque sfruttano il fatto che i roellandesi non vengono visti come persone capaci di autogovernarsi un video sul libro che si chiama La Valle dei Fiori e questo tema è trattato molto bene all'interno di quel romanzo e questo perché i roellandesi sono molto pochi non hanno una storia di dipendenza hanno tanti problemi sociali tanta corruzione anche per cui diciamo che la Gorellandia si appalla un po' su questo per avere ancora il controllo totale su quello che le interessa che è la politica estera ed è il motivo per cui gli Stati Uniti ogni tanto le fanno tipo mi vedi la Gorellandia e la Danimarca dice no proprio perché diciamo la Danimarca sa benissimo qual è il ruolo della Gorellandia nello scacchiere politico futuro e non vuole perderla il ruolo che ha la Nato nell'Artico ci sono delle basi militari statunitensi e ovviamente e soprattutto in Gorellandia ma non solo e questo ovviamente è un po' è anche preparativo ad eventuali conflitti che possono esserci e poi c'è il fatto che è stato scoperto che con lo scioglimento di ghiaccia sarebbe molto più facile estrarre diciamo delle riserve di petrolio non ancora scoperte e si stima che il 13% del petrolio non ancora utilizzato nel mondo sia proprio nell'Artico capite bene che per tutti questi motivi a partire dal petrolio che però io lo vedo come l'ultimo nel senso quello meno a lungo termine l'Artico e quindi la Scandinavia avranno una importanza molto crescente e saranno molto strategiche anche per l'Unione Europea stessa che ha nella Svezia nella Danimarca diciamo e nella Finlandia i suoi baluardi per presidiare quella zona quindi per non rimanere esclusa da questa nuova corsa al loro ghiacciato al loro bianco chiamatelo come volete e che quindi diciamo dove si giocherà parte dell'economia futura ma che ovviamente permetterà proprio a questi paesi di arricchirsi più degli altri tutta la questione dell'Artico è regolata da un altro consiglio simile per certi aspetti al consiglio nordico ma un po' diverso che è il consiglio artico il consiglio artico diciamo ci partecipano tutti i paesi nordici la Danimarca gli Stati Uniti e il Canada eccetera eccetera diciamo l'importanza si sta spostando sempre più a nord ma non è solo una questione di instabilità politica da certe parti del mondo ma anche la questione che è passare sopra sull'Artico accorcia notevolmente le distanze e quindi i costi cioè se adesso per portare un prodotto dal Giappone a Rotterdam passando per l'Africa ci vuoi un mese o due immaginatevi passare invece da sopra e arrivare ai porti dell'Artico e poi del nord Europa questo sicuramente farà crescere anche il porto di Göteborg farà crescere il porto di Copenhagen stessa ma tutta questa crescente importanza che avrà la Scandinavia la vediamo già oggi con la crescita dei paesi scandinavi in termini di popolazione e in termini di economia ma anche in termini proprio logistici Copenaghen se voi venite a Copenaghen in questo periodo voi vedete l'aeroporto che già è molto grande che è un cantiere lo stanno espandendo talmente tanto che non stento a credere che possa raggiungere presto le dimensioni dei più grandi aeroporti europei magari non in Isro o di Londra ma sicuramente Amsterdam c'è un progetto di aggiungere una nuova stazione del treno all'interno dell'aeroporto c'è un progetto di collegare ancora meglio la parte meridionale della Svezia con la Danimarca c'è il progetto il tunnel stesso il Firmarm Belt che stanno costruendo e che dovrebbe essere pronto diciamo e loro dicono 2029 se va bene all'inizio dei primi anni 2030 renderà ovviamente più centrale la Danimarca stessa e quindi la Scandinavia perché è più facilmente raggiungibile con meno costi insomma tutte queste cose stanno agevolando piano piano la Scandinavia però invece quello che può frenare questa crescita beh ovviamente il fatto che non sono un'entità unica politica non credo che lo diventeranno se non se si dovesse creare se si dovessero creare due entità statali mettiamola così o l'Unione Europea fa il grande passo e quindi diventa effettivamente uno stato e quindi questo unirebbe politicamente non la Norvegia ma Danimarca Svezia e Finlandia oppure lo fa questo grande passo il Consiglio Nordico del Consiglio Nordico vi avevo già parlato si viene a creare una sorta di Unione di Kalmar però questa volta non con un dominio danese militare quantomeno ma teoricamente paritetica ovviamente mettere insieme i paesi che non sono mai stati uniti politicamente se non appunto con l'Unione di Kalmar e comunque non volontariamente sarà difficile ma anche per le diverse direzioni che stanno prendendo cioè la Danimarca la Svezia e la Finlandia è più probabile che possano unirsi quantomeno con l'Unione Europea sono più io li vedo come più probabili la Norvegia per i motivi che vi ho già detto e per la sua storia di colonialismo nel senso che è stata una colonia per tanti motivi non lo so se farà mai il passo di perdere la sua indipendenza il suo monopolio su determinate cose specialmente adesso che tiene in scacco così la Germania per l'energia per unirsi con gli altri queste sono solo le mie supposizioni e l'Islanda e magari ve ne parlerò in un video a parte sta diventando una sorta di colonia della Cina per cui questo non so se proprio tutti i paesi nordici potrebbero unirsi però al momento un ostacolo che vedo è una disunione politica poi ovviamente questo non è necessariamente un male perché col Consiglio Nordico poi comunque loro cooperano già tanto e hanno già tante agevolazioni quindi oggi non la vedo neanche come più necessaria però sicuramente è uno svantaggio così come uno svantaggio il fatto che rispetto agli Stati Uniti e alla Cina ma è alla Russia hanno una forza militare molto più ridotta e qui l'unica che può entrare in gioco davvero è la Svezia che diciamo ha la potenza navale nella NATO penso al terzo posto subito dietro gli Stati Uniti ed è l'unica con un armamento tale da poter entrare in competizione con gli altri paesi europei quanto meno è tra i primi dieci paesi europei insieme alla Germania alla Francia tra i Uniti e l'Italia ma la Danimarca e la Norvegia assolutamente no quindi su questo anche se diciamo che l'investimento in difesa soprattutto della Danimarca è aumentato tanto e l'abbiamo visto anche con la reintroduzione della leva obbligatoria che sarà obbligatoria anche per le ragazze però gli manca anche tutto questo aspetto quindi se madre Mosca scapocciasse ma altra volta decidesse di invadere qualcun altro diciamo che le carte sarebbero tutte a suo favore rispetto a quello dei paesi scandinavi singoli quantomeno quindi c'è anche questo aspetto e poi le mie sono solo supposizioni nel senso bisogna vedere come i paesi nordici e i paesi scandinavi giocano queste carte che hanno sull'Artico e se sapranno beh agire a due potenze abide di potere quali sono gli Stati Uniti e la Cina e se non sarà che senza lasciarsi sopraffare di loro queste diciamo sono solo mie supposizioni del perché le potenzialità ci sono ma ora io direi che ho parlato veramente un sacco in questo video lascio la parola a voi cosa ne pensate siete d'accordo con me siete parzialmente d'accordo con me come la vedete il futuro siete spaventati del futuro insomma non lo so a me piace chiacchierare anche di queste cose però non lo so mi sembrava un video un po' diverso se siete arrivati fino a questo punto mettete non lo so le emoji dei soldi della verità dell'avido denaro e della brama di denaro di tutti i paesi del mondo come vedete tutto il mondo e il paese anche qua c'è brama di denaro e noi ci vediamo a un prossimo video ciao ciao